Ciao ragazzi, purtroppo il match del 3 marzo è stato definitivamente annullato. Questa per me è una forte delusione, soprattutto per tutto il tempo che io ho dedicato a questo combattimento. Già dopo il match di marzo di Milano si parlava di una rivincita, una rivincita entro novembre, dicembre, e io a settembre avevo cominciato con tutta quanta la programmazione per fare le cose fatte bene. A fine ottobre era stato annunciato il match il 27 di gennaio, quindi ho dovuto fare le mie modifiche e fare tutto quanto il piano per farmi trovare il 27 di gennaio al 100%, anzi al 200%. Sono andato a Manchester per fare sparring e proprio in quel periodo mi è stato comunicato un ulteriore slittamento al 3 marzo. Questa cosa ha portato diversi problemi dal punto di vista privato, perché sacrificavo la mia famiglia per prendere delle decisioni, per fare delle cose, dal punto di vista lavorativo, quindi anche spendo economico non indifferente, gli allenatori, il preparatore atletico, insomma tutte le persone che lavorano intorno a me hanno dovuto riorganizzare nuovamente tutto quanto. Adesso che sto facendo questo video sono a Portsmouth, sono venuto qua perché nella preparazione avevamo considerato questi giorni per fare sparring, sono comunque venuto perché voglio portare a termine lo stesso il mio lavoro. Adesso voglio comunque difendere il titolo VBO e andare in direzione del titolo europeo, magari utilizzando anche la DeGarolis Promotion. Comunque la cosa più importante è che non si molla un attimo e spero di aggiornarvi con più dettagli a breve.